al nostro autore Lorenzo Tomasin, che tutti conoscete, che ha accettato di partecipare al secondo incontro di La Dante Legge. Anche se Lorenzo Tomasin è professore, come tutti credo sappiano, di storia della lingua italiana e di filologia e romanza all'Università di Lausanna, noi lo consideriamo uno dei nostri e quindi gli diamo il benvenuto come uno dei nostri, anche se è in Svizzera e verrà presentato da Serena Fornasiero. Ma volevo soltanto ricordarvi alcuni appuntamenti vicini della Dante, per ora sempre in Zoom. Allora ricordo che il 15 marzo il musicologo Sandro Cappelletto, autore di Mozart's Scene dai viaggi in Italia, il saggiatore 2020, parlerà del primo viaggio italiano di Mozart, appunto avvenuto nel 1721, in marzo. Poi il 25 marzo, oltre ai vari compleanni cittadini, è come sapete il Dante D. Noi lo celebreremo alla Marciana, alla Biblioteca Nazionale Marciana, con la presentazione del libro di Marco Sant'Agata, che avrebbe voluto essere lui qui quando ne avevamo parlato in autunno. Il volume è Le donne di Dante, il mulino, 20-21, ed è un libro che naturalmente è fatto da un grande studioso di Dante, ma secondo me si distingue un po' da tanti libri che ci sono perché ha un ricchissimo corredo iconografico. Parteciperanno a questo Dante D., Serena Fornasiero, Tiziano Zanato, Susi Marcon per quanto riguarda le miniature dei codici danteschi che ci sono alla Marciana, della Marciana stessa, Susi Marcon, e Michela Luce che sta scrivendo, che ha in stampa un libro su Burne Jones per alcune delle immagini dei pre-Raffaeliti, che sono tantissime. Poi il 15 aprile Gilberto Pizzamiglio, nostro socio fedele, presenterà il libro di Franco Ferrari Delfino, Dialoghi Veneziani, conversazione dall'alto del cielo veneziano tra l'Arcangelo Gabriele e San Teodoro, il Leone di San Marco e la Giustizia di Palazzo Ducale, la Fortuna della Punta della Dogana e la Madonna della Salute. È un volume che è edito in due lingue, con la traduzione in tedesco e le fotografie di Irene Daum, uscito anche questo recentissimamente. Infine, dico infine anche se poi abbiamo ancora un programma, ma venerdì 30 aprile, alla fine di questi due mesi, noi ricorderemo Zanzotto con un incontro la Dante legge, in modo che manderemo una poesia di Zanzotto a tutti un bel po' prima, e verrà presentato da Silvana Tamiozzo Goldman. Allora, poi ci saranno delle altre cose che però sono un po' più lontane e quindi non ve lo dico, non ve le dico. Allora, io vorrei ringraziare Lorenzo Tomosin per essere qui con noi stasera, dare il benvenuto a tutti i presenti, ringraziare ancora una volta Rossella Scatamburlo che ci fa questa parte di Zoom, che noi non siamo in grado di fare, e darei la parola subito a Serena Fornasiero. Prego, Serena. Sono in audio? Sì. Mi sentite? Sì. Benissimo. Allora, saluto Lorenzo Tomosin, vecchio amico, non amico vecchio, vecchio amico, saluto tutti i presenti e li rassicuro, nel senso che questo è il nostro secondo incontro del ciclo La Dante legge. Avevamo detto che arbitrariamente avremmo scelto noi del comitato i titoli corrispondenti a determinate caratteristiche di cui parlare, ma che poi avremmo passato la parola ai lettori. e li rassicuro perché cominciano ad arrivare dai lettori stessi le proposte di libri da leggere e da discutere e quindi interpreto questa cosa come un successo dell'iniziativa. Continueremo dunque a leggere libri e a discuterne sempre nelle giornate finali di ogni mese. Lorenzo Tomasin non ha bisogno di presentazione perché siamo in una... i presenti sono tutti legati all'ambiente degli studi e degli interessi culturali. Dico solo due cose. Lorenzo Tomasin è veneziano, ha studiato alla Normale di Pisa dove si è formato sia per il corso universitario sia per il perfezionamento. Ha avuto come maestro Alfredo Stussi, un altro ben più illustre di noi veneziano, un maestro che anch'io ho avuto e ne sono orgogliosa e felice. Quindi direi che lo salutiamo. Non possiamo perdere quest'occasione di salutarlo, anche se non credo che sia in ascolto in questo momento. Così come salutiamo Luca Donghia, sempre idealmente, che è coinvolto nell'iniziativa del libro di cui parliamo oggi. Dico solo un'ultima cosa. La carriera di Lorenzo Tomasin è fenomenale e la quantità dei suoi contributi scientifici anche. La cosa che vorrei sottolineare è che Lorenzo dà un'interpretazione internazionale di un mestiere che potrebbe sembrare, a chi lo guardasse superficialmente, un mestiere legato a un ambiente nazionale, se non addirittura più ristretto. Cioè questi studi di storia della lingua e ora anche di filologia romanza e di storia della parlata veneziana sono perseguiti da Tomasin in maniera, con un respiro estremamente ampio. La sua formazione lo ha portato a fare il visiting professor o il visiting scholar in molte città, in molti centri culturali europei e anche americani. Ha lavorato in diverse università, anche a Ca' Foscari in un certo periodo, ma all'estero ha lavorato a Berlino, a Varsavia, a Norimberga e a Tubinga. E poi in America anche a Los Angeles, alla UCLA, a Bloomington e a Filadelfia. Ora è nella Svizzera francese e dà lustro agli studi italiani in una maniera estremamente attiva e propositiva. Ora, con questo libro di cui parliamo oggi, ritorniamo all'ambiente veneziano perché il libro di cui ho fotocopiato la copertina, ma voi l'avete vista nell'allegato, il libro si intitola Parole Veneziane, una centuria di voci del vocabolario storico-etimologico del veneziano, in abbreviazione, in acronimo, VEV, vocabolario etimologico veneziano. Lo storico, la S di storico ci stava male, quindi è stata taciuta. Una centuria di voci. Quindi cosa vuol dire? Solo cento, in realtà cento otto se non ho contato male. Cento otto parole del veneziano antico di cui qui si dà un'etimologia. Ora, chi ha letto il libro messo a disposizione o anche lo ha solo sfogliato, si sarà reso ben conto che questo non è un libro compiuto, è una primizia, è un promo, è un trailer, è un assaggio, o come mi ha detto Tomasin stesso, è la posa della prima pietra. Il progetto complessivo del VEV, cioè del vocabolario etimologico del veneziano, è qualcosa di estremamente più corposo e consistente. E questa è la prima cosa di cui gli chiederei di parlare. Magari subito e dopo magari riprendo la parola io. Grazie. Il progetto è il VEV? Allora, è un progetto per il quale abbiamo presentato, parlo al plurale perché giustamente Serena ha già ricordato che c'è un altro capomastro, che è Luca Dondia della Scuola Normale Superiore di Pisa. Abbiamo presentato questo progetto a varie istanze italiane e svizzere, per il momento abbiamo un finanziamento svizzero appunto, mettendo nel conto ciascuno di noi due 20 anni della propria vita, che in due fa 40. Quindi è un lavoro che, insomma, mi sento di definire di lunga lena, va bene, che ci accompagnerà ancora a lungo e che è appena cominciato. E che, lasciami dire, per me è anche, forse non soprattutto, ma è anche un modo per restare e per, come dire, costringermi a restare legato a Venezia molto, molto a lungo. E così mi dai l'occasione di dire una cosa che volevo dire fin dall'inizio di questo nostro incontro, cioè sappiate che sentirsi chiamare uno dei nostri da un veneziano che sta lontano e che, tra l'altro, in questo momento, come sapete, non può proprio tornare, manco se vuole, o comunque con grandi difficoltà, a casa sua. Poter vedere, sia pure sotto forma di Franco Bolli, su un monitor da 14 pollici, di facce, nomi di amici, di persone conosciute e care, è veramente una grande emozione e un piacere. Quindi grazie a Serena, grazie a Rosella per questo invito e grazie per la possibilità di parlarvi in maniera estremamente sintetica di qualche cosa che sarà tutto fuorché sintetico. Perché l'idea di questo vocabolario è nata dalla lettura di un libro che credo molti di voi, forse tutti voi, avete già in casa o comunque conoscete. Cioè questo vocabolario, dizionario del dialetto veneziano, c'è un riflesso, comunque l'avete visto, l'avete riconosciuto, il dizionario di Boerio che tutti i veneziani hanno in casa e che mia moglie, quando arrivò a Venezia, perché mia moglie non era a Venezia, quando ci trasferimmo a Venezia con mia moglie, si mise subito a usare al ritorno dal mercato del pesce di Rialto per capire che cosa avevano cercato di venderle e per capire cosa erano i termini usati, cosa significavano i termini usati dai pesci vendoli. Bene, questo vocabolario che contiene, che è un capolavoro assoluto a cui noi possiamo solo inchinarci, fu pubblicato in edizione definitiva dopo la morte di Boerio nel 1856, contiene circa 40.000 parole del veneziano e l'idea folle, di cui mi sono già reso conto che era folle, iniziale di questo nostro progetto era di prendere ciascuna di queste 40.000 parole e di darne l'etimologia e la storia, cioè di fare quello che alcuni vocabolari etimologici hanno fatto per l'italiano, per esempio, se voi prendete i vocabolari etimologici dell'italiano, hanno le voci prese da un vocabolario dell'uso, come può essere lo zingarelli, ed hanno per ciascuna voce la storia e l'etimologia. Distinguo queste due cose perché naturalmente con l'etimologia si intende l'origine remota, cioè la base spesso latina o nel caso del veneziano può essere anche di altre lingue, delle molte altre lingue che sono entrate in contatto col veneziano nel corso dei secoli, e però anche la storia, cioè la documentazione di queste parole, dell'esistenza, dell'uso, dei significati che queste parole hanno avuto nel corso della storia del veneziano. Una storia che, a differenza di quella di tanti altri dialetti italiani, è documentata appunto con continuità assoluta, a partire dal Medioevo fino ad oggi, ininterrottamente, c'è una serie mostruosa, come sapete, di testi di ogni genere che sono stati prodotti, scritti in veneziano, da quando ancora non c'era l'italiano a disposizione, l'italiano comune non esisteva ancora, quindi da quando nel Medioevo i volgari locali erano le uniche risorse alternative al latino, fino ad oggi, in cui, come sapete, esistono siti internet in veneziano, esiste di tutto, insomma, produzione poetica, eccetera. Bene, quest'idea si è già modificata nel corso dei primi mesi del lavoro, cioè ci siamo resi conto che un lavoro a tappeto come quello che ci eravamo proposti non solo è mostruoso, quindi probabilmente irraggiungibile anche nei tempi lunghi che ci siamo dati, anche in questi 40 anni di lavoro che ci siamo dati, ma è anche in parte inutile, perché effettivamente una parte cospicua delle parole che Boerio lista nel suo, inserisce, nel suo vocabolario, sono parole sostanzialmente, che hanno sostanzialmente una storia parallela a quella dell'italiano, cioè sono l'alias veneziano di parole che esistono anche in italiano e che hanno storie fondamentalmente parallele, per cui saremo un po' più selettivi in futuro. Però abbiamo provato a cominciare così. Scusate, dico un'altra cosa riguardo alla storia, vi parlavo un attimo fa dell'etimologia e con la storia delle parole, cioè come facciamo a sapere, come facciamo a documentare in maniera sintetica naturalmente e in maniera però al tempo stesso significativa, qual è stato il percorso che queste parole hanno fatto nel corso della storia, qual è stato il loro uso, i loro significati, quali sono stati i loro ambiti di impiego. Beh, per il veneziano abbiamo colto al balzo una circostanza che quasi solo, forse non solo, ma quasi solo il veneziano offre tra tutti i dialetti italiani. Cioè il veneziano, forse non tutti sanno che, come recitavo una famosa rubrica della settimana enigmistica, forse non tutti sanno che il veneziano non è solo uno dei dialetti più cospicuamente attestati nello scritto attraverso i secoli, come ho detto un attimo fa, ma è anche uno dei dialetti che dispone del maggior numero di vocabolari scritti nel corso della storia, cioè il Boerio, di cui vi ho fatto vedere un esemplare, è in realtà il punto culminante di una tradizione lunghissima che inizia praticamente udite udite alle soglie del Medioevo stesso. Cioè già alla fine del Medioevo, quando i vocabolari sostanzialmente non esistevano ancora come prodotto, si cominciano a fare dei vocabolari del veneziano. Si comincia soprattutto in ambito commerciale, naturalmente, perché l'esigenza dei veneziani all'epoca era di poter imparare, almeno a livello basico, le lingue degli altri mercanti con cui c'erano traffici particolarmente intensi, per esempio i tedeschi, e naturalmente da parte dei tedeschi l'esigenza di imparare almeno qualche elemento di veneziano per appunto dialogare con i partner commerciali al Fontego dei tedeschi, dove adesso ci sono i cinesi, mi dicono. Bene, da allora, inizio dal 400 a oggi, l'ultimo vocabolario che abbiamo nel nostro corpus è del 2008. Ecco, dal 1424 al 2008 è tutto un fiorire di vocabolari che, come dire, seguono e documentano passo passo la storia del veneziano e, come dire, ci offrono una scorciatoia formidabile. Perché se avessimo dovuto andare a cercare ciascuna delle parole di cui dobbiamo parlare direttamente nei testi del veneziano, nella tradizione letteraria dei testi del veneziano, sarebbe stato un naufragare in un mare magnum. Invece con questo corpus relativamente dominabile di vocabolari del veneziano, scritto in varie circostanze, per varie ragioni e da varie angolature, nell'arco di molti secoli, abbiamo fatto il solito salto dei nani sulle spalle dei giganti. Questa gigantesca tradizione l'abbiamo fatta nostra, da nane rottoli, e abbiamo cercato, stiamo cominciando a metterla in ordine, cioè a raccoglierla filo per filo e scegliendo le parole che ci sembrano più significative, e questa è la principale modifica della rotta che abbiamo adottato quasi subito, le parole che ci sembrano più significative del veneziano, più caratteristiche, e che hanno qui in laguna, cioè lì, ahimè, in laguna, una storia diversa da quella che possono avere altrove. Ecco, con questo vi ho dato qualche coordinata iniziale di come è nato questo progetto e non vi ho ancora detto quasi nulla del contenuto del libriccino. Allora, il contenuto del libriccino. Io ho verificato in più occasioni che anche ai non addetti ai lavori, proprio anche ai profani, l'etimologia, cioè la storia delle parole, interessa molto. È una branca della linguistica che incuriosisce e interessa, e del resto è una branca della linguistica affascinante, perché la storia delle parole porta con sé la storia delle genti che quelle parole hanno pronunciato, e anche la storia dei contatti fra un popolo e l'altro, eccetera, eccetera. Quindi io ti chiederei come seconda cosa di raccontarcene qualcuna di queste etimologie. Qualcosa mi ero segnata. Comincio, se vuoi, da una che non può esserti segnata perché non esisteva ancora quando ci siamo parlati, perché è un aneddoto dell'altro giorno che mi ha molto colpito e che mi ha ricordato una cosa che Daniele Baglioni, che è qui presente, che ha scritto un bel libro sull'etimologia in generale, cioè sulla nozione, sul concetto di etimologia, ha descritto molto bene. Cioè il fenomeno per cui nell'etimologia, nella ricerca dell'origine delle parole, fioriscono delle straordinarie leggende metropolitane. Perché siccome l'etimologia interessa un sacco di gente, naturalmente interessa ai linguisti, ma interessa anche a chi non ha assolutamente alcuna formazione specifica e professionale della linguistica, l'etimologia dettata dalla pura fantasia e dal desiderio che i parlanti hanno di dare una ragione, di dare un motivo all'uso di determinate parole, fa fiorire le più incredibili leggende metropolitane. Alcuna di divertenti ne racconta Daniele Baglioni appunto nel suo libricino, ma non per il veneziano, e l'altro giorno mi sono imbattuto in qualche cosa di abbastanza simile. Cioè in un veneziano che, in un social network che frequento, uno dei pochi che frequento, lanciava l'idea che non è certamente sua, è molto diffusa in effetti, e ovviamente se andate sulla pagina di Wikipedia la trovate subito, relativa a questa parola, non mi ricordo in quale pagina di Wikipedia, ma c'è. Per cui l'espressione veneziana secco incandio, secco incandio, vuol dire magro, ma anche, viene usata anche per indicare non solo la magrezza fisica, ma anche la magrezza di mezzi, quindi senza soldi. So resta incandio per dire sono rimasto secco, no? Come si direbbe in italiano, senza soldi. Ecco, questa espressione, secondo questo internauta, ma non è che se lo inventasse lui, lo trovava anche in molti libri c'è questa spiegazione, che però è semi-mitica. Cioè che questa spiegazione discenda dal fatto che nel 1668 Venezia ebbe una guerra a Candia, cioè nell'isola di Creta, che i veneziani chiamavano Candia, come sapete, che lasciò, prosciugò le finanze della Repubblica, e quindi incandio sarebbe un'allusione, appunto, cioè deriverebbe, questo diceva l'internauto, l'aggettivo incandio deriva dal nome di Candia. Ora, le cose non stanno così. È bello pensare che sia così, sicuramente l'espressione secco incandio è la sua riformulazione che pure è attestata incandia. Cioè si dice anche a Venezia, so incandia per dire, o si diceva, non so se l'abbiate mai sentito, ma in effetti io non l'avevo mai sentito, ma l'ho trovato documentato, so incandia per dire sono al verde, sono rimasto senza soldi, sono all'asciutto, bene. Sicuramente questa associazione può essersi prodotta e può essere stata alimentata dall'episodio della guerra candiotta di cui dicevamo. Ma secco incandio era una parola, cioè la parola incandio esisteva sicuramente già all'altezza della guerra di Candia. È una parola latina che discende dal latino candere, va bene, che è la stessa da cui derivano in italiano incandescente, eccetera, che indica, vuol dire bruciato in sostanza, bruciato, riarso, disseccato, va bene. È una parola latina, è una parola latina censita regolarmente da tutti i principali dizionari etimologici. Ma ovviamente l'internauta, ma non solo lui, anche i molti appassionati che in libri più o meno attendibili hanno descritto, hanno parlato di questa espressione secco incandio. Naturalmente il lessico etimologico italiano, il Romanisches Etimologisches Wörterbuch, che per noi etimologisti è una Bibbia, ma che ovviamente non ha detto errori, è totalmente sconosciuto, e il motivo per cui abbiamo chiamato il vocabolario VEV è che suona quasi come REV, e REV è il nome con cui gli italiani appunto indicano il Romanisches Etimologisches Wörterbuch, che è come dire la Bibbia, insomma, dell'etimologia. Tra l'altro Luca Donghiala è remoscia, quindi pronuncia REV e VEV quasi alla stessa maniera, questo ci ha ulteriormente incoraggiato a non scegliere questa sigla. Quindi leggende metropolitane, ma anche idee diffuse che meritano una messa a punta. Per esempio, molti sanno, o molti si dice largamente, che la parola ciao, che è una parola che tutti gli italiani usano più volte al giorno, e che anche fuori d'Italia si usa molto, perché anche in francese si usa, anche in altre lingue ha avuto molta fortuna. Ecco, questa parola si diceva, giustamente, ma la cosa che era stata messa in discussione a varie riprese, è di origine veneziana. Cioè è la parola ciao, schiavo, che naturalmente si usava in espressioni come schiavo vostro, servo vostro, queste forme di salute un po' ancien regime, che però, insomma, gli austriaci, come sapete, ancora oggi si salutano dicendosi servus, il significato è evidente. Bene, questa parola di cui si diceva che fosse probabilmente veneziana, ma non si sapeva bene, sicuramente settentrionale, eccetera, beh, grazie ai materiali che abbiamo, grazie al corpus che abbiamo raccolto con il VEV, abbiamo potuto tracciare abbastanza precisamente da dove viene, cioè appunto dal veneziano e soprattutto da testi teatrali, in cui queste espressioni erano frequenti, si può ben immaginare, nella dinamica del dialogo teatrale, e probabilmente tramite la grande fortuna del teatro di origine veneziana, se non proprio veneziano, nel 600, all'epoca della Commedia dell'Arte, è possibile che queste espressioni si siano diffuse e di fatto si siano allargate progressivamente. Un'altra, poi ti riceto la parola, Serena, è una parola che invece è un po' il contrario, cioè è una parola che si sapeva che veniva dal nord, o si era già intuito che venisse dal nord dell'Italia, anche se oggi la usano tutti gli italiani, cioè FIFA, per dire paura, una parola del linguaggio familiare, una parola del linguaggio non quello più formale, e Cino Renzi, un filologo padovano molto capace, molto autorevole, si era reso conto che questa parola si è diffusa soprattutto a partire dalla Prima Guerra Mondiale, e quindi probabilmente, anzi, lui aveva già intravisto dal fronte che era soprattutto settentrionale della Prima Guerra Mondiale, e con questo lui aveva immaginato che appunto fosse stata fatta circolare da soldati settentrionali, ma non aveva detto né veneti, pur essendo lui veneto, né veneziani. Ora, di nuovo, nel teatro veneziano cinque-seicentesco, si trova, si vede chiaramente che FIFA è una parola che ha una piccola traiettoria, ma molto chiara, esisteva un verbo che era fifar, anzi esiste ancora in veneziano, si sente ancora nel senso di lamentarsi, frignare, quello del frignare dei bambini, no? Frignare dei bambini, quindi quello dei fifoni, cioè di quelli che frignano perché sono infantili o perché hanno paura, appunto. Quindi è il FIFA, dove FIFA era la voce verbale, colui che frigna. C'è un personaggio della commedia veneziana del Seicento che si chiama Polifonio FIFA ed è un cagassotto, insomma uno che ha sempre paura, un personaggio comico. Da quest'uso soprannominale di FIFA, nel senso di voce del verbo fifar, è del tutto probabile, anzi si può anche proprio vedere nei dizionari settecenteschi un passaggio da un'edizione a un'altra di un vocabolario molto famoso pubblicato a cavallo tra sette e ottocento, dal semplice verbo fifar al riconoscimento già allora di FIFA nel senso di paura, appunto, cioè la nascita di questa parola che poi si è diffusa probabilmente per le vie che aveva già individuato Renzi, cioè più tardi, all'inizio del Novecento, si è espansa fuori di Venezia diventando una parola di tutti gli italiani, perché oggi credo che tutti da Bolzano a Palermo sappiano cosa vuol dire, cos'è la FIFA, insomma. Senti, questa non è l'unica messa a punto che ha spostato o precisato le etimologie recette, diciamo. Per esempio, vedo che una parola su cui io ero rimasta che fosse un arabismo, cioè faqin, è discussa nel VEV e poi magari tu ci racconti da dove viene. Però prima di passare a qualche altro esempio di etimologia, io volevo chiederti qualcosa sui contributori, cioè ogni voce di questo VEV è firmata. Caso vuole che nella prima centuria circa metà siano voci fatte da te. Ho dovuto dare il buon esempio. Immagino. Però i collaboratori sono, i firmatari sono 14, i due responsabili dell'impresa, cioè tu e Luca Donglia, e altri 12, che così, per quel che mi ricordo, sono allievi, sono vostri allievi. Allora, sì, una cosa, ti ringrazio di questa, perché mi dà la possibilità di sottolineare un aspetto a cui tengo molto. Cioè questo del VEV per me è la prima volta in cui vedo veramente un lavoro d'equip, che nelle nostre discipline è qualcosa di abbastanza raro. I nostri lavori di filologi, di storici della lingua, sono di solito abbastanza solipsistici. Magari si coordina, non so, la pubblicazione di un'opera a più umani, ma è una cosa diversa. Qui c'è veramente un'officina che lavora tutta insieme e grazie appunto a questi mezzi, non ci siamo mai riuniti fisicamente tutti insieme, perché sono stati giunti. Eh beh, sì. Però ci conosciamo ovviamente, ci conoscevamo già prima. Ecco, questo lavoro di gruppo si sta rivelando per me un'esperienza straordinaria. Allora, vabbè, l'altro condirettore l'abbiamo già citato. Ci sono due insostituibili coordinatrici della redazione, che sono un po' la regia operativa, che sono Francesca Panontin e Greta Verzi, che non sono veneziane, sono venete linguisticamente, anche se Francesca è nata nella provincia di Pordonone, quindi è del Veneto, cioè del Veneto, di quello che è linguisticamente veneto, è della regione Friuli, e Greta che invece è di Ponte nelle Alpi. E quindi ci sono loro due. E poi ci sono effettivamente gli altri nomi che si vedono qui e che si vedono in misura ancora più numerosa, più abbondante nel sito, che così magari dimostro. Sono soprattutto studenti, sono dottorandi e studenti. Cioè sono, adesso non riesco più a trovare il sito che mi ero preparato prima per farvi vedere, ma vabbè. Sono apprendisti a diverso livello, naturalmente ci sono dei dottorandi, quindi sono persone, sono studiosi già semi maturi, ma ci sono anche studenti, perché a Lausanne abbiamo sperimentato l'anno scorso e stiamo per sperimentare di nuovo quest'anno la formula del laboratorio con gli studenti. Gli si spiega come si fa una voce, gli si mette in mano il martello, la sega, il trapano e tutto, e poi magari guidandogli la mano per evitare che facciano buchi o che spacchino. Ma il risultato è che molte voci di questo primo fascicolo che abbiamo pubblicato sono appunto firmate da studenti. E questa è una cosa che mi ha dato una grande soddisfazione, perché è molto bello ed è raro. In questo primo fascicolo, aspetta, lo diciamo perché non abbiamo ancora detto, sono, come tu hai detto giustamente, ci sono le prime cento circa voci che sono le prime in ordine alfabetico, cioè le prime voci della lettera A, da Abaco fino a, non mi ricordo quale sia la voce in cui si ferma la serie, va bene, forse Accademia, non mi dico sia Accader forse, va bene. E poi però si continua con una serie di altre voci che sono appunto, fino alla fine dell'alfabeto si arriva fino a Zogattolo, si salta, prendendo i venezianismi dell'italiano, cioè quelli di cui abbiamo parlato anche poco fa, le parole del veneziano che sono diventate parole italiane. C'è anche Zogattolo perché giocattolo, sebbene sia stato mascherato nella forma che sembra una parola italiana, cioè è una parola italiana naturalmente, ma è una parola italiana che non fa parte dell'italiano tradizionale letterario né del toscano, perché in toscano come sapete si chiamano balocchi, giocattoli. Giocattolo è una parola veneziana che per varie ragioni, casualmente, ma si è affermata ed è diventata ed ha superato il competitore balocco nell'uso degli italiani. Allora vogliamo sapere di Facchin. Ah sì, Facchin, scusate, non ve ne avevo parlato. Magari anche di Baicolo o di Pantalone. Facchin non è merito nostro, o meglio, Facchin è un'etimologia che è stata riscritta molto efficacemente da uno studioso fiorentino che insegna all'Università di Trento e non è un operaio del VEV, si chiama Parenti, Alessandro Parenti, ma è un collaudatore, perché noi abbiamo una commissione esterna di esperti che non fanno voci, ma che leggono tutte le voci e le rivedono, è una specie di comitato di saggi, e lui è uno di questi. Facchin è appunto una voce di cui lui ha recentemente dimostrato, Beyond Any Reasonable Doubt, come si dice, che non è come a lungo si era pensato un arabismo, per varie ragioni, principalmente perché non torna il significato principale che la parola ha in arabo e quella che ha in italiano, ma ha un'origine un po' bizzarra, cioè è la versione bergamasca del nome Franchino, cioè Facchin vuol dire Franchino in bergamasco. Ora, credo che tutti sappiano, molti di voi sapranno, che effettivamente i Facchini a Venezia per tradizione, per lunga tradizione che risale perlomeno all'età, alla fine del Medioevo, primi dell'età moderna, erano in larga parte appunto di origine bergamasca. La bergamasca era la principale zona di reclutamento e di fornitura del personale di fatica nel porto di Venezia. E Franco Franchino era ovviamente un nome comune, tra i più comuni nomi maschili di questi personaggi, quindi si avrebbe in questo caso un passaggio dal nome proprio al nome comune, per cui che si osserva anche in altri casi, in cui nomi propri, nomi di persona, per esempio Antonio è uno dei più di quelli che in giro per la Romagna, cioè nelle varie lingue romanze, dal portoghese allo spagnolo, il portoghese lo cito pur cosa nel caso di Antonio, allo spagnolo, all'italiano, eccetera, ha prodotto una serie di significati, di nomi comuni. Beh, anche in veneziano a me è capitato di sentire, direi, toni dal dei tali per direi un tizio, un tale, va bene? Ecco, Franchino è un tale, è un tale specializzato però in un'attività particolare, cioè il Franchino portatore, porter come si dice oggi in buon italiano, credono anche da Rosella che è un'esperta. Bene, questa sarebbe la trafila della parola Franchino che fino adesso invece era stata un po' equivocata. Non mi ricordo se avevi citato altre forme. Ma io ero incuriosita da Baicolo, che so, da Gazzetta e Gazzettino. Sì, allora sì, 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 ottimi esempi perché mi danno la... Baicolo è una voce che è stata fatta da Francesca Panottin, che è appunto una delle nostre caporedattrici, bravissima, e ci ha lavorato parecchio. Baicolo, credo che a tutti noi faccia venire in mente prima di tutto il biscotto, che ovunque in Italia si vende in quella scatola che tutti conoscono anche fuori di Venezia. Bene, ma in realtà Baicolo in origine è un itionimo, cioè il nome di un pesce, è una varietà di cefalo o di branzino che per via della sua... cioè per via della forma che ha questo... e del colore forse di questo pesce, successivamente i biscotti, questi biscotti secchi di forma bislunga. Sono stati chiamati così, come si potrebbe chiamare appunto pesciolino o un biscotto a forma... con quella forma. L'altro di cui parlavi adesso cos'era? Ma pensavo a Gazzetta, per esempio. Con Gazzetta, giusto, scusami. Gazzetta è un bel esempio di internazionalismo del veneziano. Tutti sanno che il giornalismo è nato... ma insomma non è vero, ma insomma facciamo finta. Il giornalismo si è nato a Venezia, comunque si è sicuramente sviluppato. La stampa si è sviluppata a Venezia, ha avuto in Venezia uno dei suoi centri più importanti all'inizio dell'età moderna. La Gazzetta, cioè il foglio periodico, si chiamava così a Venezia e questa parola è stata studiata e c'è un'ipotesi affascinante che la riconnetta a una parola greca, usata... cioè il nome greco di una moneta... cioè su una cosa siamo tutti d'accordo, che fosse il nome di una moneta, che era... originariamente indicava il prezzo. È un po' come il resto del Carlino, ci sono dei giornali che hanno... traggono il nome dal prezzo con cui si comprano. Quindi era il nome di una moneta, con cui evidentemente ci si poteva aggiudicare una copia di questi fogli volanti. Questa moneta probabilmente deve il suo nome a un termine greco, usato soprattutto nelle isole greche, appunto in contatto con Venezia, che a sua volta deriverebbe dal greco calcos, cioè bronzo, va bene... pardon, rame, rame, perché era una moneta effettivamente con un alto titolo di rame. Questa storia mi piace ricordarla perché è stata ricostruita in maniera molto affascinante. Resta qualche ambito, qualche margine di dubbio per i linguisti, ma uno storico l'ha ricostruita molto bene, che è Mario Infelise, che molti di voi conosceranno, collega veneziano di storia della stampa e del giornalismo, che naturalmente non poteva esimersi da cercare di stabilire la storia, da ricostruire la storia di una parola così importante per la storia del giornalismo mondiale, perché gazette è una parola che si usa anche in francese, in inglese, è un po' come magazzino, magazine, perché anche magazine, ossia magazzino, è una parola di origine araba questa, di cui mi sono reso conto recentemente, non so se a Daniele Baglioni l'avevo detto, perché è una cosa di cui mi sono accorto di recente, che la sua più antica attestazione, dunque è una parola di origine araba, magazzino, ma la sua più antica attestazione italo-romanza, cioè di area italiana, è appunto veneziana. Fino a qualche tempo fa la più antica era pisana, e io sono ben contento, da veneziano che ha studiato a Pisa, di strappare a Pisa questo primato. Ho trovato in un testo, che peraltro adesso è già nei siti in cui si consultano queste cose, c'è un testo veneziano in cui la parola magazzino compare, nel senso naturalmente non di giornale, ma nel senso proprio di magazine, cioè di deposito, compare prima che in altri testi italiani, e siccome gli altri vocabolari nazionali, per esempio l'etimologico francese, considera magazzino del francese un termine di origine araba, ma importato attraverso l'italiano, beh, a questo punto, se è vero che in Italia i primi a usarlo sono stati i veneziani, saremmo di fronte, il caso dello spagnolo è un po' diverso naturalmente, perché in spagnolo esiste una parola che è arrivata direttamente dall'arabo, per evidenti ragioni, che però ha avuto una trafila propria e non si è diffusa in altre lingue, a partire da questa stessa base araba. Ma italiano e francese, e quindi poi l'inglese, perché magazine naturalmente arriva dal francese, come quasi tutto il lessico inglese di origine neolatina, avrebbe quindi anche questa una radichetta, diciamo, veneziana, sarebbe un'altra parola, diciamo, passata per Venezia e da Venezia irradiata il resto d'Europa. Quindi avere la gazzetta e il magazine, beh, insomma, mi pare che sia un buon titolo per la nostra tradizione linguistica. Certo. Quindi ci dobbiamo aspettare una mole di dati certificati e anche qualche sorpresa da questo lavoro corale di laboratorio che darà vita al WEV. Allora, io propongo che gli ultimi dieci minuti si lascino a disposizione di domande da parte dei presenti, ma se posso permettermi, vorrei prima chiederti qualcosa di un libro che so che è in uscita. Allora, noi sappiamo che nel novembre scorso è uscito questo libretto della prima centuria, ma nel frattempo tu hai lavorato a una cosa, credo, più sicuramente corposa e anche molto bella, secondo me. Questo libro che si intitolerà, appena uscirà, insomma, Europa Romanza, sette storie linguistiche. So che mancano pochi giorni alla sua uscita. Ci dici qualcosa? È un libro che uscirà, grazie Serena per questa domanda, è un libro a cui tengo molto, che considero un po' come, insomma, certi libri si considerano un po' come dei figli, no? Perché, insomma, comportano un investimento di energie, di impegno, insomma, ci si riversa una parte di sé, importante. Ecco, questa, se questa è la metafora che si può usare, ecco, in questo caso questo libro è una figlia, non un figlio, perché la considero un po' come una figlia. ed è un libro in cui ho raccolto le storie, appunto, sette storie, queste sette storie linguistiche sono sette storie di persone, a parte un caso, sostanzialmente sconosciute al pubblico. Lo vedete adesso o ho cambiato? Volevo farvelo vedere, no, perché sullo schermo non lo vedete, no. No, vediamo il vocabolario storico. Allora devo cambiare schermata, scusate. Sono sette storie di persone, appunto, sconosciute, vissute a cavallo tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, cioè tra la fine del 200 e il XVI secolo, persone che ho conosciuto, incontrato in archivio. Eccolo qua. Persone che ho incontrato in archivio nei miei studi, appunto, tra le carte degli archivi, che cosa hanno in comune queste persone, che sono donne, uomini, ebrei, cristiani, mercanti, musicisti, fanno vari mestieri e vivono in posti molto lontani tra loro perché vivono tra le Baleari, Venezia, l'Inghilterra, la Svizzera, vivono in molte parti d'Europa e hanno tutti in comune il fatto di essere vissuti a cavallo di almeno due lingue. Come in fondo viviamo tutti noi, perché è davvero raro che si viva tutti e solo dentro una sola lingua, se ci pensiamo bene. capita, ma è abbastanza raro. Come minimo abbiamo il dialetto, che è la nostra seconda, come dire, dimensione linguistica. Questi invece hanno vissuto a contatto di lingue tra loro abbastanza diverse, le hanno messe più o meno consciamente in contatto, ma lo hanno fatto fuori dai grandi circuiti della letteratura o dalle grandi storie che conosciamo, quelle più famose, quelle che finiscono nei libri di storia o di storia letteraria. Sono storie private che mi è piaciuto raccontare per cercare nell'idea di Europa che abbiamo delle radici e dei significati che vadano forse al di là della pura cornice politico-economica in cui a volte tendiamo a immaginare questa entità. L'Europa è anche qualche cosa di più profondo e di più privato, se volete, che si è costruito nei secoli attraverso questo dialogo sommesso che ho cercato di ricostruire in questo libro. Grazie, Serena. Non vediamo l'ora di leggerlo. Dico con molta con molta trepidazione. Grazie. Allora, grazie a te. Mi piacerebbe sentire qualche intervento da parte dei soci, degli amici. Se c'è qualcuno che ha curiosità, domande. Questo è il momento di farsi avanti. Se posso, se posso, mi sentite? Certo. Sono Stefano Brocca. Buonasera. Allora, una curiosità. Venezia croce via ovviamente di culture, di lingue per la sua posizione, la sua storia. Ha subito l'influsso sicuramente pesante di lingue d'altre terre. Una domanda, una curiosità. Tra il francese, il tedesco e l'arabo, quale di queste ha più avuto incidenza poi nello sviluppo della lingua daniziana? È una domanda molto difficile. Allora, tra quelle che ha citato, diciamo, allora, sicuramente possiamo escludere il tedesco, nel senso che la componente germanica, la componente germanica della nostra lingua, anche dell'italiano che stiamo parlando in questo momento, è importante, è molto rilevante, ma risale a un'epoca, diciamo, a un'epoca molto antica, anteriore a quella in cui possiamo parlare di un influsso del tedesco. Ecco, il tedesco ha influito sul veneziano, naturalmente c'è una parola come schei che usiamo tutti i giorni che è di origine sicuramente tedesca, ma a parte questi pochi esempi non c'è molto da dire. Beh, il francese, beh, col francese il veneziano come tutti i dialetti italiani e come tutte le lingue dell'italo-romania ha avuto una love story lunghissima. Beh, non dimentichiamo che il milione di Marco Polo fu scritto in francese e che la lingua che i veneziani usavano oltre mare quando incontravano appunto gli altri popoli del bacino orientale del Mediterraneo era il francese e il francese senza dubbio ha lasciato moltissimi segni e ha continuato a lasciarli ancora in epoca moderna. C'è una bellissima opera di Paolo Zolli che è uno dei nostri patriarchi veneziani della dialettologia che è dedicato proprio all'influsso del francese sul veneziano nel diciottesimo secolo ed è un libro che consultiamo spesso perché nel Settecento Venezia, città internazionale quante altre, quante poche altre, aveva in Parigi ovviamente un'interlocutrice privilegiata quindi pioggia di francesismi. L'arabo sono tante le parole che arrivano al veneziano dall'arabo ma per l'arabo direi sottolineerei soprattutto questo ruolo che è tipicamente veneziano di mediatrici di mediatrice di lingua mediatrice cioè di lingua che ha fatto da ponte tra le lingue orientali l'arabo in particolare e l'Europa occidentale ci sono parole che tutta l'Europa usa che ho fatto qualche esempio ho fatto l'esempio di magazzino l'altro esempio che potrebbe cascare a pennello qui è quello di arsenale una parola che tutti usano perché ars no in inglese arsenal en français in tutte le altre lingue europee c'è questa parola ed è un'altra parola che evidentemente passa per Venezia passa per Venezia anche se qui è curioso perché vabbè la storia di arsenale prima o poi la scriverò ma molto probabilmente lì c'è fin dall'origine una specie di menage a trois se posso chiamarlo così avvenuto oltre mare avvenuto appunto nel Mediterraneo orientale che coinvolge l'arabo il veneziano il francese perché probabilmente arsenal che non era la voce la parola che usavano i veneziani nel medioevo come sapete tutti che avete letto Dante e ricordate che Dante lo chiama come nell'arzanà dei veneziani bolle d'inverno in effetti arsenà era la parola che usavano i veneziani la parola arsenale è un po' più recente e probabilmente ci ha messo lo zampino in francese ma è un altro esempio in cui appunto il veneziano fa da mediatore da punto grazie grazie a lei veramente un piacere vederci tanto grazie scriviamo ma non ci vediamo quasi mai mai posso fare una domanda certo Bruno crevato selvaggi Venezia ecco il lido di Venezia anzi il come giustamente ha detto Venezia si pone spesso come interlocutrice privilegiata come centro di mediazione tra il mondo occidentale il mondo arabo e anche altri ma moltissimo anche come centro privilegiato di mediazione e di interlocuzione con il mondo bizantino e greco in generale prima e dopo il 1453 insomma quindi con l'impero ma anche con tutti quei territori greci che governa o per sempre tipo le isole Ionie oppure fino a una certa data poi tipo Cipro e Candia oppure perdendo sempre le intende che le governiamo ancora naturalmente questo noi veneziali lo pensiamo ma qualcun altro no? Morea no? Negroponte eccetera e quindi la stessa domanda che le ha fatto prima l'interlocutore precedente io la pongo per le interlocuzioni linguistiche con il greco che è un'altra lingua che si è evoluta moltissimo dal Medioevo a oggi in maniera molto cambiata radicalmente insomma pur mantenendo una struttura costante e coesa grazie certo guardi è una doverosa integrazione che va fatta al piccolo catalogo che abbiamo fatto prima perché effettivamente se c'è una lingua rispetto alla quale il veneziano diciamo pesa più di qualsiasi altra ecco forse l'unico paragone che si può fare è quello con i dialetti dell'Italia meridionale che con il greco sono stati letteralmente a contatto e sono ancora a contatto per la diuturna diuturno scambio interscambio tra quella che si chiama non a caso Magna Grecia e la Grecia ma tolto questo questo caso effettivamente Venezia rappresenta il punto di gran lunga di massima di massima irradiazione del greco sull'occidente sull'occidente latino cioè dopo la scorpacciata di grecismi che il latino aveva fatto in epoca classica naturalmente imparando potremmo dire a leggere a scrivere leggendo i greci beh il contingente successivo di grecismi cospicui beh dopo quello dei Vangeli anche che pesò molto naturalmente e quindi in epoca cristiana ma diciamo nel corso del Medioevo sicuramente Venezia è stata il principale ecco usiamo un altro termine di buon italiano il principale hub di circolazione dei grecismi nel nostro volumetto di cui stiamo parlando ce n'è ce n'è qualcuno ce n'è più di qualcuno cioè per esempio c'è Pantegana ecco un altro termine veneziano che oggi usano tutti ecco che usano tutti e che è un grecismo uno dei tantissimi grecismi del veneziano e ulteriore conferma del del fatto che sono stavo cercando ecco Anguria anche un altro ma ce ne sono tante ce ne sono tanti ma questa questa circostanza che lei giustamente evoca ha fatto sì che in quel gruppo di revisori di cui dicevo prima quei cinque saggi che ci leggono tutto e ci correggono tutto ce n'è uno che è specificamente che è uno specialista di di neogreco che è uno specialista di di contatti linguistici tra Grecia e Romagna si chiama Franco Fanciullo qualcuno forse lo conosce forse Serena lo conosce io lo conosco e che abbiamo reclutato apposta proprio perché avevamo bisogno di un grecista in pianta stabile tra i nostri revisioni poi ho corteggiato anche posso dirlo pubblicamente il figlio di Rosella Mamoli che è appunto lui un grecista finissimo chiedendo se magari ci aiutava per i termini per le voci greche che sono tantissime del VEV ho avuto una cauta offerta di collaborazione ma è troppo modesto Nicolò quindi si è un po' schermita ma cercheremo di coinvolgerlo di più ma insomma certamente è una delle partite più importanti non può studiare il veneziano chi non sappia chi non sappia il greco e dovrebbe sapere bene anche il neogreco cosa che nel mio caso non è così vero ma per fortuna appunto nella squadra abbiamo anche dei neogrecisti piuttosto ferrati grazie una curiosità io non sapevo se posso che quarantena era un venezianismo visto che siamo in tema voglio dire in clima no in effetti non lo è Silvana il motivo per cui l'abbiamo incluso è che è una parola che si usa a Venezia che si è usata sicuramente a Venezia ma che non è nata a Venezia il punto è il fatto è che molte fonti e anche alcuni vocabolari lo danno con certezza come un termine veneziano ma ecco questo è un caso è un po' un controesempio rispetto a quelli che abbiamo fatto fino adesso cioè è un caso in cui abbiamo tolto al veneziano ciò che non è suo nel senso che quarantena nel significato che tutti abbiamo ben presente purtroppo è un termine certamente italiano settentrionale che probabilmente però irradiò dalla Lombardia e non da Venezia dove il termine specifico locale con cui si indicava la pratica dell'isolamento sanitario imposta alle navi per esempio sul lazzaretto eccetera eccetera non era quarantena era contumacia si chiamava così a Venezia si chiamava contumacia e a un certo punto si comincia anche a usare ma tardi e per importazione di una voce percepita come italiana a quel punto si inizia a usare anche quarantena ma non è un termine appunto specificamente veneziano io serena se posso volevo semplicemente ringraziare il brillantissimo relatore e diciamo e complimentarmi per il libretto ma soprattutto per il grande progetto che c'è dietro insomma e scusarmi per dover andare via e quindi non poter seguire l'ultima parte della discussione ma ringrazio anche la società D'Antalighieri di Venezia per questa bella iniziativa per avermi averci ospitato ciao grazie a te ciao a te ciao a Gilberto ciao a Gilberto ecco mi accodo a Daniele nello scusarmi viceversa di aver potuto collegarmi solo da dieci minuti in quanto ero impegnato sempre in televideo con la premiazione del premio Geiger della Cini per la traduzione poetica ho fatto in tempo proprio a sentire le osservazioni di Lorenzo sul rapporto tra il greco e il veneziano e cosa abbiamo premiato al premio Geiger una traduzione in italiano di Cavafis ah ecco delle poesie di Cavafis ecco allora Lorenzo scusami davvero tanto no ma non ti preoccupare del ritardo Gilberto perché tanto adesso andiamo tutti insieme a cena giusto dove ha prenotato Serena ecco anche lì sono impegno a cena con la Cini ma cosa ceni su Zoom tu cosa fai fammi capire eh sì ognuno tira fuori il suo piattino e ci va avanti bene comunque garanzia di lettura rapida presto del libro eh complimenti vivissime anticipati grazie Gilberto grazie mille Serena posso ma certo allora io volevo fare un'osservazione e chiedere una cosa a me ha commosso questo Qatar perché quando ero piccola c'era una signora di tre porti che diceva Sodrio de Qatar se tege oppure sunar sunar che è quello evidentemente che è il rapporto greco io però volevo chiedere una cosa no no è latino anche sunar sunar no no è adunare con uno scambio di prefisso a sunar ah bene non so però mi piaceva questo Qatar sunar tege invece io volevo chiedere a Lorenzo questo allora la vice scusate parlo da anglista la vicenda del OED Oxford English Dictionary è notissima cioè incomincia nella seconda metà dell'Ottocento e continua anche adesso loro tuttora continuano per l'attestazione delle parole nei testi antichi a usare chiunque voglia cioè tutto il mondo manda pezzetti di testi testi voi non avete mai pensato di fare una specie di call for everybody che tutti possano contribuire non lo so allora l'esistenza del sito dovrebbe servire tra le altre cose anche a questo il vocabolario verrà pubblicato un po' alla volta adesso nel sito ci sono solo cinque voci di prova ma perché si abbia un piccolo blocco informatico ma già abbiamo visto che avere un sito stimola naturalmente lo spirito se vuoi wiki dell'impresa naturalmente i contributi e i suggerimenti non si respingono ma tendenzialmente mi sentirei un po' più europeo un po' più continentale nell'adesione a un modello per cui esiste un corpus di riferimento stabilito a monte ed esiste una responsabilità su quel corpus noi ci assumiamo la responsabilità di spogliare come si dice con termini affascinanti un corpus che è diciamo definito perché nel caso in cui si proceda diversamente ci sono una serie di problemi che si aprono e che rendono che diciamo aprono la strada alla dispersione che nell'ottica in cui siamo attualmente non ci sentiremo di prendere ciò non toglie appunto che sollecitazioni e suggerimenti segnalazioni d'attestazioni perché noi possiamo ci lasciamo il diritto di pescare con moderazione fuori dal corpus però ecco abbiamo questa idea appunto molto continentale se vuoi un po' tedesca ma d'altra parte sto in Svizzera quindi del corpus di riferimento come entità piuttosto piuttosto chiusa la voce scusami ti ringrazio per aver citato la voce Catar perché così mi dai l'occasione per parlare dell'altra persona che non avevo ancora citato cioè Greta Versi è lei che l'ha fatta è l'altra caporedattrice quella di Ponte nelle Alpi che ha scoperto una cosa molto interessante insieme a un altro studioso losannese cioè ci sono resi conto che questo Catar che effettivamente un tempo a Venezia si usava ma che oggi si usa molto poco non solo ma che oggi a Venezia è percepito tipicamente come una parola da Campagnoli cioè si usa poco perché ha finito per essere connotato ma è una storia singolare che è stata ricostruita nei dettagli da questi due giovani studiosi cioè il tramonto nel prestigio di una parola che in origine era veneziana tanto quanto le altre insomma ma che ha perso progressivamente di venezianità di fronte a Trovar che invece pur è condiviso con l'italiano che invece ha preso piede ancora all'epoca di Goldoni Catar si usava abbastanza comunemente nel veneziano ma c'è stata questa rapida caduta che lo ha portato ad essere percepito dai parlanti veneziani come un termine un poco appunto poco veneziano e addirittura connotato come periferico campagnolo e quindi un po' con lo stigma non a caso veniva da Treporti questa signora infatti non a caso certo molto usato ancora oggi a Padova è certo beh è chiaro è quasi è quasi un come dire un blasone del dialetto di terraferma quindi tipicamente del padovano rispetto al veneziano cioè il veneziano dice Trovar e il padovano dice Catare questo è uno degli elementi di distinzione ma è un elemento relativamente recente perché fino a poche generazioni fa anche il veneziano diceva Catare senza nessun problema e andando scusa un po' più lontano verso Mantua presente in un luogo d'origine esiste nel mantovano la voce Cata Cata vino sì sì ma penso che sia legato cioè sia un continuatore diretto di Cata cioè così come Cata è il capitare Cata del latino che ha dato figli nipoti pronipoti in tutta l'Italia certo l'italiano Cata è certamente una voce ripescata una voce dotta ma il tipo accattare dell'Italia meridionale accattare che è vivo nei dialetti anche dell'Italia del sud è una parola di sì è una parola di eredità di placida eredità latina come quasi tutte le parole che ci vengono lo spirito comunque la Milano è usatissimo a Milano è usatissimo Cata su mi ripete per favore l'indirizzo del sito sì allora adesso ve lo rifaccio comunque adesso ve lo faccio vedere così lo lo vedo oppure no lo metto nel bravo lo metto nella chat bev.ovi.cnr.it stavo per dire nel chat perché in francese chat è maschile nel senso della discussione online e bisogna stare molto attenti a dire maschile perché ogni tanto all'inizio mi scappava regolarmente la chat che però in francese crea delle gaffe mostruose perché suona esattamente come la chat che è la gatta letteralmente ma in francese ha un significato ha un significato traslato e quindi bisogna sempre ricordarsi che preferisco sbagliare dire il chat in italiano che farmi scappare una chat guardate la chat in particolare è bellissima guardate se posso intervengo solo per salutare intanto Lorenzo che credo di essere trattati ciao Lorenzo che questa settimana ci siamo visti due volte quindi mi sento un privilegiato diciamo dopo un bel po' di tempo e nulla volevo solo segnalare una cosa ma più per così per pacezia diciamo il centro di digital and public humanities perché Lorenzo Tomasin so che è anche molto sensibile diciamo a questi argomenti l'impronta digitale insomma si è intervenuto anche su queste questioni ha di recente inaugurato una rivista che si chiama Magasem lo so il mio articolo sulla parola Magasem è atteso per il prossimo numero lo so allora mi taccio perché appunto ti proponò per il contato l'orario diciamo perché mi sembrava esattamente nelle coordinate quando l'ho vista sono saltato sulla sedia ho scritto subito a Franz Fischer perfetto e lui ha accolto con entusiasmo l'idea di una voce di una voce Magasem di una allora sei tu che hai dato una notizia a me a noi come era prevedibile infidelio la gente si stupisce che io sono lavorato con una notizia di digital grazie che bello vero parlare di parole c'è qualcun altro che vuole intervenire? bene questo era era il tempo che ce l'avamo dati eravamo siamo stati bravissimi grazie a te abbiamo io sono a Venezia ma tu sei un po' il vizio e volevo dire che in realtà adesso vi volevo dire una cosa sulla Dante Legge la Dante Legge non so se l'avete capito ma è un segnal per Serena cioè ecco lei che dà la legge la Dante Legge questa sera era lei complimenti Serena vedi sono passata di grado sei la Dante Legge Serena caro Lorenzo caro Lorenzo sperando di riaprire i confini in qualche modo ti ringraziamo sentitamente ci siamo molto divertiti a parlare di questo libretto e aspettiamo le prossime puntate e leggeremo il libro sull'Europa e le storie linguistiche mi ha fatto un immenso piacere rivedervi vedervi rivedervi risentirvi eccetera e speriamo di farlo presto anche De Visu e dal vero e attorno al tavolo della cena infatti certo grazie a te vi devo la cena che non possiamo fare questa sera va bene ma fiammui a doverla a te ciao Lorenzo carissimo ciao buonasera grazie buonasera anche ufficialmente Lorenzo per questa bellissima serata che ci hai fatto pensare anche per persone come me che non sono del mestiere è stato veramente bellissimo e ti ringraziamo tantissimo grazie buona serata grazie a te